Nel secondo riquadro andiamo a fare sempre la piramide a base quadrata, ma questa volta in assonometria monometrica. Le misure rimangono sempre le stesse, quadrato di base 5 cm di spigola di base e altezza della piramide di 7 cm. Esattamente come nella assonometria isometrica, le misure nella assonometria monometrica rimangono costanti. Quindi sull'asse X e l'asse Y, il primo inclinato di 60 gradi, il secondo di 30, 60 e 90 qui in mezzo, vado a prendere la misura di 5 cm. Sia di qua che dall'altra parte. Individuando quindi i punti A, B e C. Come prima andiamo a tracciare le parallele per individuare dove si trova il punto D. Quindi sempre utilizzando la squadra 30, 60 andiamo a concludere il quadrato di base. Abbiamo tracciato quindi due parallele, una ad A, B passante per C, eccola qui, e una parallela a B, C passante per A. E abbiamo individuato il punto D. Tracciato tutto con la 2H perché andremo a ripiassarlo in un secondo momento. A questo punto, come abbiamo fatto anche per la isometrica, andiamo a trovare l'incontro delle diagonali per individuare quello che è il piede dell'altezza. 1 e 2. Eccolo qui. Che ovviamente vedrete che rispetto all'isometrica si trova scostato rispetto all'asse Z. Quindi da H che ho individuato qui, io vado a portare su una linea verticale su cui andrò poi a prendere la misura di 7 cm che è la misura dell'altezza della piramide. Questo punto è il nostro vertice. Come abbiamo fatto prima, andiamo a congiungere i vari vertici. Questa volta non ce ne sono due che si sovrappongono, quindi prima di tratteggiare dobbiamo fare attenzione. Allora, lo spigolo DA e lo spigolo CD risultano tratteggiati perché risultano nascosti. Come potete vedere, non si vedono. Così pure lo spigolo VD che risulta dietro. Quindi noi andremo a tratteggiare con l'HB lo spigolo laterale VD e i due spigoli di base DA e CD. Invece AB e BC che sono gli altri due spigoli della base sono continui perché sono visibili. così pure gli spigoli laterali B, V, A, V e CV. E così abbiamo realizzato anche la piramide, la base quadrata in assonometria monometrica.